buongiorno a tutti Gianvito D'Angelo video intervista settimanale ovvero cosa accadrà in borsa questa settimana oggi è l'8 aprile e analizziamo insieme il nostro FUZI MIB e alcuni titoli appunto tra i più interessanti del nostro indice principale iniziamo quindi dal nostro FUZI MIB vedete la situazione chi mi segue chi segue i mercati ormai l'ha ben chiara anche qui mi focalizzerai oggi sul cosa non fare quello che io al momento non farei non so se andrei long ma quello che io sicuramente non farei non andrei short questo è fondamentale perché perché l'indice vedete sembra linea grigia vedete orizzontale che ho tirato sembra che stia andando direttamente sul target che poi sarebbe l'obiettivo del famoso testo e spalle di alzista in vigore da addirittura dall'estate del 2012 vedete che il mercato a grandi passi guardate soprattutto nelle ultime due sedute come sta provando direttamente ad accelerare appunto verso questa famosa solito intorno 24 370 dovrebbe essere più o meno il target compreso quindi fra 24 e 24.500 punti quindi ripeto cosa fondamentale non andare short perché mi stanno arrivando troppe mail troppi messaggi su facebook di persone che si stanno esponendo appunto in direzione contraria al trend principale poi abbiamo visto intesa san paolo vedete il mercato ha superato con molta agilità vedete questa famosa resistenza che erano massimi di periodo vedete stiamo parlando di aria intorno a 3 euro 3 euro e 10 il mercato con quale agilità e con prese di profitto totalmente nulle si sta avviando anche lui ripeto a superare e quindi a non rivedere più almeno per il momento questa soglia e vedete la seconda linea che abbiamo tacciato in alto se allarghiamo il grafico sarebbero i precedenti massimi di swing quindi il mercato dovrebbe in qualche modo non avendo avuto resistenze scusate supporti quando è sceso non dovrebbe avere resistenze nella salita e quindi automaticamente questa potrebbe essere più o meno l'aria a cui il mercato dovrebbe in qualche modo andare parliamo di un obiettivo veramente che va oltre la settimana di trading però è giusto per segnalarlo e per capire in che frangente e in che contesto andare a inquadrare il titolo poi abbiamo visto unicredit sapete che unicredit chiaramente anche qui è un cugino sono cugini con intesa san paolo ma come vedete non sono esattamente esattamente impostati allo stesso modo perché abbiamo un trend di medio che è stato rotto a rialzo ma vedete che il mercato rispetto ai massimi di swing precedenti quindi quei famosi vi ricordate 3 euro 3 euro 10 di intesa che appunto sono unicredit equivalrebbero appunto acquistare intorno a 6 e 90 sono ancora ben lontani dall'essere raggiunti e addirittura superati per cui anche qui siamo rialzisti su unicredit ma con obiettivi e con ambizioni meno pronunciate rispetto all'intesa poi abbiamo analizzato saipem saipem vedete il classico titolo che non ha praticamente beneficiato del rialzo dell'indice a cui appartiene è pur vero vedete che il mercato nelle ultime sedute o in generale diciamo da tutto il 2015 ha comunque in qualche modo creato un bel canale rialzista che in qualche modo appunto sta portando il titolo ad apprezzarsi in maniera abbastanza sostanziosa perché vedete il mercato è passato in ripeto in poco più di due mesi tre mesi è passato da aria a 7 euro vedete le quotazioni attuali intorno a 10 80 e questo ripeto è sicuramente sia in livello percentuale sia a livello grafico sicuramente una cosa molto apprezzabile poi abbiamo analizzato snam rete gas sapete snam e anche questo vedete impostato molto bene vedete il trend di medio snam ormai abbandonato da tempo vedere che bel pullback che il mercato ha fatto su precedenti livelli guardate che precisione e da qui il mercato è rimbalzato adesso sta addirittura ripeto sopra i precedenti massimi di swing quindi anche qua guardate anche qui che bel pullback per una giornata di oggi vedete massimi precedenti e vedete anche qua praticamente il mercato si è appoggiato perfettamente su questi livelli per cui anche qua impostazione nettamente rialzista e di conseguenza ripeto la cosa fondamentale non andare short e per ultimo abbiamo analizzato a 2a vedete a 2a viene chiaramente grandissimi discesi degli anni passati ma per dire anche qua canale rialzista per noi possiamo considerare di lungo e canali di bassista di medio e vedete il mercato come anche qui ha in qualche modo appunto fatto pullback sul canale trovato appunto minimi comprati e poi man mano vedete ha creato un canale con inclinazione ancora molto superiore rispetto appunto ai mesi precedenti per cui anche qui siamo rialzisti vedete il mercato addirittura sta andando vedete sopra massimi di periodo molto molto importanti l'unica accortezza su questo titolo come diciamo appunto nell'intervista è quello di non andare long in prossimità di resistenze perché perché ovviamente potrebbero svolgere il ruolo appunto che abbiamo appena detto per cui su a2a diciamo aspetterei eventualmente meglio prenderlo a prezzi più alti ma appunto essendo sicuri che questa resistenza in qualche modo sia stata messa alle spalle piuttosto appunto che rischiare magari un ritracciamento che seppur inquadrato in un trend long magari potrebbe essere anche abbastanza sostanzioso e quindi metterci sotto pressione bene per oggi è tutto ci vediamo direttamente la prossima settimana gianvito d'angelo video intervista settimanale per contattarmi potete chiedermi l'amicizia su facebook perché questo è il luogo dove normalmente interagisco con le persone che mi seguono oppure perché non dovesse usarlo potete mandarmi un'email all'indirizzo che vedete in sovraimpressione vi ringrazio gianvito d'angelo a presto